Cristo Gesù, tu sei qui. Cosa c'è, oh Signore? Che cosa devo fare? Sono stanco. Come devo seguirti ora? Quo vadis domine. Mentre a Roma ferve la persecuzione dei primi cristiani sotto Nerone, Pietro lascia Roma. Mentre si trova ormai fuori le mura della città, più o meno in questo luogo dell'Appia Antica, incontra Gesù, o meglio, Gesù che incontra Pietro. E Pietro, tutto stupito, chiede al Signore, Domine covadis, Signore, dove vai? Il Maestro risponde, Vengo a Roma per essere crocifisso di nuovo. Ma nel lasciare Pietro lascia le impronte dei suoi santi piedi. Sul luogo dove Gesù ha lasciato Pietro sorge la Chiesa dove ci troviamo. Questa è una coppia che è stata posta in questo luogo nel 1620, quando venivano fatti i lavori per modernizzarla, ampliarla. La pietra originale che si trovava in questa chiesa è stata spostata nella Basilica di San Sebastiano fuori le mura. Questo è il luogo del discernimento. Come lo è stato per Pietro, così lo è per tanti altri. Lo è stato lungo i secoli e lo è ancora oggi. E questa scena è tanto simile a tanti momenti della nostra vita. Quando anche nella nostra vita ci troviamo su un bivio e non sappiamo quale direzione scegliere.